Saranno tre le piazze di Bitonto che il 25 e 26 marzo ospiteranno i volontari dell'Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma per il tradizionale appuntamento con le uova di Pasqua AIL. L'iniziativa, aggiunta alla sua trentesima edizione, rappresenta un momento importante per la raccolta di fondi a sostegno dell'Associazione, impegnata in varie forme al fianco dei pazienti con tumore del sangue e delle loro famiglie. In tutta Italia le piazze coinvolte sono più di 4.300. A Bitonto le uova saranno acquistabili con un contributo minimo associativo di 12 euro sabato e domenica in piazza Aldomoro, piazza 26 maggio 1734 e piazza Crocifisso. La presentazione dell'iniziativa a Palazzo di Città è stata l'occasione per ufficializzare l'impegno dell'amministrazione comunale al fianco della sezione provinciale di Bari, rappresentata da Maria Antonietta Specchia e della delegazione cittadina dell'AIL che vede come referente Marianna Patierno. Il sindaco Francesco Paolo Ricci e l'assessore al welfare Silvia Altamura hanno rimarcato l'importanza della prevenzione e l'attenzione riservata, grazie ai servizi comunali, a quanti affrontano la malattia. A sostenere AIL anche il Polo della Solidarietà, il progetto nato dalla volontà di alcune associazioni di volontariato presenti sul territorio per vivere in rete la città, mettendosi al servizio della comunità.